buca buca a tutti gli amici del lubus in game bene ritrovati all'interno di fifa 16 riprendiamo la nostra carriera con la fiorentina sapete cosa c'è oggi ragazzi oggi c'è che non ho intenzione di fare lo spari in partner nuovamente al milan bene sì ragazzi dopo l'ultima sconfitta che mi sta ancora bruciando e la conseguente eliminazione dalla coppa italia avvenuta praticamente negli ultimi secondi finali di questa dannata partita andiamo ad affrontare nuovamente il milan e lo andiamo a trovare in casa proprio nella fossa dei leoni partita prima di ritorno del campionato di serie a che ci vede ancora solidi al comando però prima di questo raga abbiamo da fare una sessione di allenamento ragion per cui approcciamoci immediatamente a questa cosa così ce la vogliamo immediatamente dalle pampine facciamo allenare il nostro babacara a questo punto la voglio creare oggi difficile a tutti quanti raga oggi veramente ci sarà da spaccarsi le ossa tutti quanti anche kalinic tutto difficile tutto difficile tutto difficile per loro le voglio le voglio le voglio voglio complicare la vita a tutti oggi ovviamente la vorrei complicare molto più all'avversario ma questo lo dovremmo dimostrare in campo vicino vicino sei quasi morto 31 anni per borca valero va bene merita anche lui ogni tanto anche lui difficile supera il tuo uomo andiamo adesso in difesa difensore facciamo roncaia roncaia che ci ha fatto praticamente prendere il gol con una sua disattenzione difensiva veramente ragazzi sono molto molto amareggiato da questa sconfitta perché pensavo di averla portata a casa facciamo allenare anche da da rusano poverino non lo facciamo allenare quasi mai portiere uno contro uno va bene così simuliamo tutto e vediamo se i ragazzi amico jones bbc una d una f addirittura per babacar ma si muove poco però è importante aver fatto questa sessione di allenamento andiamo direttamente a vedere cosa c'è quindi in programma per noi oggi la partita contro il milan allo stadio san siro ed eccoci qui ragazzi ben rientrati siamo alla formazioni dobbiamo ovviamente questa volta mettere in campo la nostra formazione tipo perché questa volta non mi accollo assolutamente a nessun tipo di errore do fiducia a babacar al posto di galini abbiamo anche magari non tutta la formazione al cento per cento questa volta pepito rossi va in campo anche perché rossi come se come vedete ancora non è non è carico carico poi per il resto va bene brachicoschi lo sacrifichiamo ancora va bene così direi che possiamo direttamente vederci per il pre partita bene 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 amici bene 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 ci siamo ci siamo stadio san siro di milano milan fiorentina l'appuntamento prima di ritorno del campionato di serie a abbiamo adesso un titolo bella la cornici di pubblico come al solito abbiamo adesso un titolo ripeto da dover conservare perché le possibilità ci sono abbiamo anche cambiato il livello siamo l'abbiamo aumentato va bene così proviamoci proviamoci vediamo se va bene altrimenti mi sa che dovremmo ritornare al vecchio stampo però sarebbe come dire un rinunciare e io non voglio farlo non sono uno che rinuncia questa è la nostra formazione la conosciamo già quella del milano avete vista poc'anzi quindi bando alle ciance e iniziamo questa partitissima via voglio un atteggiamento aggressivo quest'oggi la sconfitta brucia ancora oggi però loro sono in casa hanno sicuramente il pubblico dalla loro hanno sicuramente il il morale dalla loro però questa vendetta imminente ci serve come il pane sarà loro rimpiangeranno di aver di aver fatto quella quell'abuso nei nostri confronti insomma adesso babacarro però viene fermato qui aggressivissimi siamo al quinto minuto gucci che abbatte dalla tre quarte attenzione da da rusano qui un miracolo ci eravamo fatti scappare se non sbaglio guardate sì sì ci eravamo fatti scappare ma chi era montolivo che cose dei pazzi qui tatarusano la prende facile la rimette lì ripartiamo con babacarro dovrebbe essere più veloce babacarro attenzione ruba la palla ruba la palla babacarro ruba la palla babacarro entra dentro lì attenzione questo è fallo al limite del calcio di rigore qui babacarro se ne era andato praticamente in porta aveva fatto fuori abate che adesso probabilmente verrà ammonito così è ma non è abate però ammonito antonelli va bene così buono l'atteggiamento troppo aggressivo qui la dobbiamo mettere in porta pepito rossi è la battuta potremmo farlo questo gol attenzione ma no ma non ci sto credendo cominciano poi con i miracoli il portiere che la prende con un dito ma non va bene non va bene però va bene lì siamo lì attacchiamo ancora colpo di testa levati arbitro capiti sempre in mezzo alle palle mario suarez dobbiamo mettere al centro lo facciamo però arriva qui Diego Lopez molto facile pressiamo 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 abbiamo la difesa migliore del campionato lo sappiamo già la meno battuta andiamo di non far rimpiangere queste parole abbiamo sicuramente oggi un compito arduo questo qui battere il Milan in casa sua dopo aver subito l'eliminazione dobbiamo essere veloci rapidi furbi evitare di fare cazzate di disimpegni stupidi attenzione qui pepito rossi viene trascinato fuori assieme alla palla eeeh guarda così così per aria tutti per aria tutti che svolazzano per aria così l'abito niente per lui è tutto normale va bene così devono svolazzare tutti per aria oggi ecco così proprio falli ora questa qui è ammunizione sicuramente proprio devono avere paura di prendere la palla oggi tutti tutti quanti oggi tutti li faccio scoppolare così andiamo bravo rubiamo la palla andiamoce 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 andiamo 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 spalla contro spalla vedi quanto sono maledetti aggressivissimi così così abbiamo impostato un allenamento fatto sull'aggressività però non le dobbiamo prendere non le dobbiamo prendere ecco ci rifugiamo in calcio d'angolo qui viene l'ammunizione per Pepito Rossi giustamente fallo anzi no per Suarez neanche lo rivediamo il fallo perché per i deboli di cuore si potrebbero impressionare e attenzione perché qui ripartiamo rubiamo ancora una volta la palla al centro campo Pepito Rossi Pepito Rossi Pepito Rossi Pepito Rossi entra dentro l'aria Pepito Rossi entra dentro l'aria il tiro di Pepito Rossi ma che cosa voleva fare Pepito Rossi la voleva piazzare con il con il piatto raga ma veramente proviamo a distenderci adesso abbiamo recuperato un'altra volta una palla molto interessante ci siamo sulla linea del calcio d'angolo attenzione potremmo battere così però la palla arriva facile ancora una volta niente da fare sta per concludersi il primo tempo risultato ancora di 0 a 0 qui al stadio San Siro di Milano più possesso palla Milan ma a noi non interessa il possesso palla ci interessano i fatti oggi attenzione cross bello questo al centro e qui la grande parata di Tatarusano ancora una volta sul colpo di testa chi era? Kucca qui ci facciamo scappare noi gli avversari quando ci sono questi cross entriamo in difficoltà non capisco il perché comunque 0 a 0 finora due tiri pari ci sono stati anche se ho visto più possesso palla Milan e un po' più di offensività da parte loro anche se noi siamo stati molto più aggressivi qui Rossi stoppa la palla come un pulcino attenzione perché adesso è il Milan che prova a distendersi non dobbiamo farci non dobbiamo allargare le nostre maglie qui non dobbiamo allargarci attenzione il tiro però fuori gioco fuori gioco ancora una volta sono loro lì davanti no caccio di punizione direttamente loro perfetto tutto l'opposto di quello che pensavamo e che avevamo cercato di procurarci attenzione qui al Milan attenzione che queste palle è proprio queste palle filtranti che io temo le temo particolarmente guardate come si allargano i nostri giocatori le nostre maglie come al sol attenzione ancora una volta abbiamo rischiato il tracollo qui qui è su queste percussioni centrali che noi perdiamo la testa qui è calcio d'angolo ancora una volta quanta sofferenza raga ma che è inutile proprio questa sofferenza questo è Tomovic attaccato come un falco ma Tomovic fa fuori l'avversario possiamo distenderci adesso attenzione perché ho visto ma avevo visto solo scattare da quel lato adesso bella questa palla Pepito Rossi il gol il gol il gol di Pepito Rossi che salta a tre metri lui che è un metro una banana guardate Tomovic cosa ha fatto qui ma guardate che gran gol tutto entrare dentro ancora vediamo non può nulla Diego Lopez 1 a 0 per noi grande Pepito che festeggia come un falco manteniamolo manteniamolo siamo in vantaggio 61esimo questo gol può essere veramente come il pane adesso loro si allargeranno molto di più attaccheranno come i pazzi qui l'abito dà il vantaggio per una trattenuta vedete adesso come hanno accelerato il ritmo attenzione ma qui ancora Pepito Rossi anche in fase difensiva un leone un leone a qui la rubiamo la perdiamo ancora una volta con un nostro disimpegnerato qui non dobbiamo fare errori qui bella la finta di buona avventura Jack 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 torna a casa Jack torna a casa Jack torna dietro è bella attenzione qui possiamo ripartire possiamo ripartire ripartiamo mamma mia questa fase ma non arriverà nei linee anche se parte 3 ore prima su una macchina ancora che disimpegna male li stiamo mettendo pressione va bene così piano 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 senza senza spingere piano 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 non perdiamo palla lì bello questa circolazione mi piace attenzione a Blachikovsky ne ha veramente poca benzina oggi oggi lo vedo come dire sta subendo la pressione da quel lato di Antonelli che probabilmente è più veloce di lui cosa veramente molto strana attacchiamo qui è fallo nostro infatti tanto di guadagnato vediamo chi possiamo sostituire ci sarebbe un Ilicic da sostituire e lo facciamo immediatamente facciamo entrare sì Verdù abbiamo anche Rossi da sostituire sì mettiamo la velocità di Papu Gomez sfruttiamola diamo ancora una possibilità a Blachikovsky però cerchiamo di giocare più che altro su questa fascia dove abbiamo adesso Mario Suarez abbiamo adesso Alejandro Gomez fresco e adesso la prende lui questa palla infatti la mette al centro dove non arriva nessuno ancora ancora il Papu ancora il Papu entra dentro l'area il Papu il Papu la crossa mamma mia mamma mia Borca Valero dietro la potremmo chiudere la potremmo chiudere potremmo dargli il colpo di grazia ancora la palla centrale calcio d'angolo stiamo mettendo pressione l'atteggiamento che volevo Borca Valero alla banderina qui respinge Diego Lopez Davide Lopez Davide no Diego Diego Lopez Diego Lopez Diego Lopez Diego Lopez Gomez Gomez si era di finta ma che cazzo non lo fai di finta la Gomez la devi crossare voglio un po' più concretezza la parte 2 Gomez esatto questo voglio aggressività ottantesimo minuto disimpegnano molto bene adesso attenzione fuori tempo chi ci va chi ci va chi ci va come al solito chi ci va come al solito chi ci va come al solito ma che cosa come ti sei buttato così non facciamo farlo lì molto bene non facciamo farlo lì molto bene mamma mia è solo mamma mia è solo la diamo lì la diamo lì ma non ci arriverà mai abbiamo detto di non farlo attenzione che cosa ci ha preso per un millimetro per un millimetro ragazzi mi conquistano la palla loro al centro campo attenzione attenzione si aprono si aprono bene no qui Borca Valero no 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 meno male meno male che l'ha lanciata là sopra e noi la buttiamo scaraventiamola lontana lontana questa palla 88esimo dobbiamo sacrificarci partita di sacrificio partita di sacrificio qui si allungano la palla si allunga la palla si allunga la palla attenzione attenzione a questi disimpegni mamma mia che palla ma che palla tira a volo tira a volo come viene come viene come viene come viene che palla ed è finita amici è finita amici è finita amici abbiamo spugnato San Siro come loro avevano spugnato l'Artemio Franchi gran gol di Pepito Rossi 1-0 ritorniamo sempre a comandare questa classifica vediamo adesso le cose come si mettono per noi le cose si mettono benissimo amici perché ritorniamo a più 5 sulla Juventus guardate questa classifica Fiorentina 47 Juventus 42 Roma 37 Napoli 35 Lazio 34 e il Milan 32 punti vi abbiamo te saluti te saluti com'è che dicono te saluti vi ho salutato amici salutate la capolista salutate la capolista vediamo se ci sono ulteriori novità altrimenti ci lasciamo qui per oggi per questa emozionantissima puntata ora abbiamo da affrontare una squadra niente male però la riceviamo in casa il Torino anche questa squadra da temere intanto vediamo perché ci sono delle informazioni su Embolo vediamo di capirci qualcosina ma Embolo ha 76 però un valore di 15 milioni il che mi sembra veramente molto difficile che noi lo possiamo acquistare per questa finestra di mercato quindi mi sa che Embolo è posticipato al prossimo anno bello questo suggerimento dalla parte di Walter mi piace lo tengo in considerazione va bene così io direi che per oggi dunque possiamo staccare possiamo chiudere con imbellezza ci siamo vendicati abbiamo ottenuto la vendetta che speravamo di ottenere quest'oggi 1-0 allo stadio San Siro ci siamo riportati nuovamente a più 5 dalla Juventus che dirvi ragazzi questa è una carriera davvero appassionante per cui non smettete di seguirmi se il video vi è piaciuto mettetelo questo mi piace inoltre continuate a iscrivervi e poi che dirvi vi auguro a tutti una felicissima serata stasera serata di Champions League perché oggi è martedì ragion per cui buon partita a tutti quanti e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao